Ciao a tutti per 6 di Terni se siamo a Sant'Erasmo oggi 25 aprile a intervistare i ternani e sentire cosa ci dicono proprio in base al fatto che sono ternani sentiamo cosa ci diranno Allora devo fare la sua, non faccio la domanda e mi do la risposta Allora vai, 6 di Terni se? Non lo so Nessuno lo sa 6 di Terni se... va bene, penso ci vedrà, da un pochetto ripassiamo No, ci dobbiamo pensare, è giusta, ha ragione Va bene Onion Pitchel Esatto Va bene Riederci La venne in mente e poi te lo chiedo Si, quello che ti pare Questo qua c'ha dietro un ciclista e ha detto è un casino per i giovani Eh, ma non so politico, cioè mi dice è un casino, ma ci dobbiamo pensare al lavoro, è un casino, vabbè Oggi è festa, non mi roba i coglioni Eh, vabbè Io sono spensierato oggi, domani Non fuggite Sì È per 6 di Terni se È simpaticissima la cosa Basta dire un voto e ce ne andiamo E ce ne andiamo Facciamo una domanda al volo? Salve Sì, voto 5 stelle Vabbè, così Non mi interessa Non c'è Non c'è Devo reggere cosa? Vai Ma per cos'è? Cosa è il gruppo per Facebook? Ah, proprio Grazie Secondo Andate su Youtube, Facebook dove pare Allora Ma allora già hanno fatto Non ti preoccupare Sì Sì Auxilia E' il suo secondo nome E' il suo secondo nome Scardone è bene Scardone, mi trovo impreparato E' il suo secondo nome Scardone Grazie E' il suo secondo nome E' il suo secondo nome E' il suo secondo nome Come si chiama? Quelli che giungono a Garibaldi Oh Pulvio Ancora peggio? Porca droga Eh ma sono troppo giovane Qua anno Di 10 anni fa apposta Di merda pazzesco Va bene, grazie Sei di Terni se? Sì, di Terni Sì, di Terni Sì Che vuol dire Sei di Terni se? Devi dire un motto o qualcosa Quello che ti viene in mente su Terni Sì Aspetta, ora vengo là Che ve la facciamo meglio Va bene Tu niente? Non lo sapete Sei di Terni se? Bah Se te rompi Te invece? Sei di Terni se? C'è un ragno? Ci stai? Tu pensa, vedi? Sono meno di Terni E' sostenibile Bravo Bravo Sei di Terni se? Mi fai una domanda a me? Sì Sei di Terni se? Non ho detto troppe io adesso ormai Così Così? Vai Eeeh Se non vai Se non vai Ah anche Questa non la vediamo di ciropo eh Sei di Terni se? Vai sulle Prada del Strongone Molto semplice Bene Ficci da Ricci No, se la Ricci la Ficci Va bene Con questo dubbio vi salutiamo da Santerasmo Ciao 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 Ciao